Balasso precisa per Bruninho, all'indietro per il bulgaro, il muro di Marco Podrasianin, eccolo qua, il castello di Mattoncini Rossi, la prende Leal in difficoltà ora Balasso, no ci va Bruninho, attacca Guantorena, muro ancora, ancora muro, che spettacolo oggi questo fondamentale già per la seconda volta, Alcchiali anche riceve primo tempo di Sibu, e rispediamo tutti al vittente, questo pallone non deve passare sul 18-10 Balasso in difficoltà, però la prende comunque Bruninho, il muro di Perugia, Civitanova la tiene viva in qualche modo, attacco e ancora muro ma quanti ne abbiamo murati? aspetteremo, ma più, 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 secondo me Balasso alza Pulito per Guantorena, un altro muro, un altro muro dei ragazzi, e andiamo a festeggiare come noi sappiamo fare